In Italia ogni tre giorni e mezzo in media avviene l'omicidio di una donna in ambito familiare o comunque affettivo e ogni giorno si registrano 23 atti persecutori, 28 maltrattamenti, 16 episodi di percosse e 9 violenze sessuali. Un fenomeno, quello della violenza di genere, che secondo la polizia di stato non accenna a diminuire in maniera significativa e anche Ferrara non è esente. Un fenomeno che si lega anche alla crisi economica perché se la donna è disoccupata farà fatica ad abbandonare l'uomo maltrattante, spesso partner coinvolto in relazioni d'amore. 256 casi di donne che nel 2016 sono state protette nelle due case rifugio ferraresi del centro donne giustizia che si appoggiano poi ai punti di ascolto anche di Cente Comacchio. Come è stato sottolineato nel corso della presentazione dell'iniziativa della polizia di stato questo non è amore, a Ferrara bisogna fare rete per evitare conseguenze per le donne anche peggiori. Per questo il camper della Croce Rossa italiana l'8 marzo sarà presente dalle 9 e un quarto alle 13 in piazza Trento Trieste sul listone dove il personale della squadra mobile dell'ufficio minori della Questura sarà presente insieme a psicologi e mediatori per la maggior parte donne per incontrare quelle persone che vorranno informarsi in maniera informale sul come ci si protegge. Infatti per il centro donne giustizia la violenza di genere è un fenomeno subdolo, le donne difficilmente vanno a denunciare in questura ma il camper che sarà in piazza la mattina dell'8 marzo troveranno un punto dove chiedere informazioni e casomai aiuto.